Buone notizie in prospettiva olimpica per l'Italia, i mondiali di nuoto a Fukuoka in Giappone hanno ottenuto il passaggio alla finale dei tuffi 3 metri con relativo passe per le Olimpiadi di Parigi 2024, Giovanni Tocci e Lorenzo Marseglia che hanno dato spettacolo in semipinale con il Tavo e il Nuno Tempo e ora hanno buone prospettive di far bene anche nella finale per le medaglie in cui non partono favoriti ma sicuramente sapranno cercare di ottenere una buona prestazione in gara. Il torneo di pallanuoto maschile ha visto il successo degli azzurri di Campania contro il Canada con un esagerato 24-6 da segnalare a referto le quaterne di Fondelli, Gonzalo e Encheniche miglior giocatore e Renzuto. Prossimo impegno venerdì mattina alle 10.30 contro la Cina. In campo femminile il Sette Rosse di Silipo è atteso al confronto diretto per la leadership del Girone contro la Gracia in programma alle 3.30 italiane del 20 luglio dopo le esonanti vittorie su Argentina e Sudafrica.